Per Pino Lafranca, finalmente una buona notizia per il ripascimento giunti addirittura 29 milioni di euro o il progetto già finanziato? È un progetto che stiamo combattendo da diversi anni, che l'anno scorso è stato sollecitato e rifinito con il protocollo d'intesa tra i comuni ed il capofila, il comune di Laccameno e tra gli enti promotori sono il comune di Ischia, anche il comune di Foria e tutti gli altri comuni. La problematica è grossa, è un inizio anche perché sono finanziamenti allo stato attuale e di fatto è stato finanziato il progetto, cioè la progettazione, che si parla di 4 milioni di euro la progettazione di tutto il tipo di ripascimento che dovrebbe essere effettuato all'interno litorale di Ischia nei punti strategici. Il vecchio progetto prevedeva una richiesta di finanziamento di 60 milioni di euro ma logicamente con questi chiari di luna sembrava assurdo proporla questa situazione. La regione, in poche parole, ha finanziato il progetto e quindi poi dovrebbe finanziare il finanziamento. Questi sono dei finanziamenti negli anni rotativi fino al 2020, quindi lo stato attuale è quello e interesse da parte delle associazioni di categoria ma anche dei comuni di sollecitare di farlo venire il più presto possibile, anche perché noi conosciamo la lentezza da parte del diter burocratico da parte della regione Campania. Il presidente De Luca ci assicurò già due anni fa che prendeva a cuore la problematica del ripascimento e della difesa costa perché noi chiediamo, sì, vabbè, il ripascimento degli arenini rimane alla difesa costa, cioè con la protezione di scogliere, la realizzazione di scogliere francifrutte che evitano questo andazzo che sta da 30 anni, che sta sull'isola Dischia, specialmente nel comune Dischia, che la spiaggia viene rosa ogni anno, basta un inverno, una mareggiata, si erode e scompare la spiaggia. Quali spiagge verranno interessate? L'isola Dischia, principalmente Barano, Forio, Lacca, meno Casamiccio, la Ischia, tutte le spiagge. Quindi non c'è nessuna serie A e serie B, saranno interessati tutti quanti, logicamente saranno individuate le zone da ripascere con l'idrovola o altre situazioni in modo da ricreare quella linea originaria che era esistente, che allo stato attuale noi vediamo ogni anno sempre regredire e diminuire. Noi abbiamo visto adesso una mareggiata nel mese di gennaio e nel mese di dicembre che la spiaggia del Lido e della zona di San Piero è diminuita del 30%. Grazie. Grazie. Grazie.